tutorial ecco come si può cucire con gli spilli la capota adesso questa posizione lo scatolone l'ho messo perché deve rimanere alta perché la colla e la cucitura deve aderire vedete qui l'ho già fatto ecco se avete problemi con la capota io sono l'unico in italia che riesce a fare un lavoro a mano così e posso cucirvela sul vostro cabrio chiamatemi al 327 84 90 555 ripeto 327 84 90 555 johnny capota il restauro della vostra capota ciao amici se avete bisogno cercatemi in internet